Si chiama la Rossi a Ballà, francese di 25 anni, il ragazzo che ieri sera ucciso ha coltellato un poliziotto e la compagna Magnanville, non lontano da Parigi. Nel 2013 era stato condannato per affiliazione a una rete jihadista. È certamente terrorismo, ha dichiarato stamattina il presidente francese François Hollande. Il ragazzo ucciso poi dalle forze speciali si era serragliato nell'abitazione delle vittime dopo aver accoltellato il capofamiglia di 42 anni sotto casa. Dopo l'irruzione nell'appartamento le forze dell'ordine hanno trovato il cadavere della donna e il leso, il figlio delle vittime. Nel 2013 la Rossi era stato condannato per reati legati al terrorismo islamico. Poco prima dell'attacco su Facebook diceva Euro 2016 sarà un cimitero.